Attaccatemi, criticatemi, fate quello che volete, tanto io ho le spalle forti, vi rendo pan per focaccia, ma non consento a nessuno di discriminare i miei collaboratori, i miei operatori, non consento di metterli in difficoltà, in una situazione di disagio. L'altro giorno c'è stato un incontro del PD, un'assemblea pubblica, un dibattito pubblico organizzato dal circolo del PD di Talsano sul comparto 32 ed era presente il mio operatore video. A un certo punto il signor Mino Borracino ha esclamato «Ah, abbiamo anche l'operatore di Abbate». Allora, chiariamo una cosa. Uno, il mio operatore è un freelance e quindi essendo freelance lavora ovviamente con tutti perché è la sua attività. Numero uno. Numero due, che sia l'operatore di Abbate, che in quella sede fosse l'operatore di Abbate, qual era il problema? Cosa significa che essere l'operatore di Abbate che significa, non so, essere un appestato? Penso che sia stata un'espressione infelice quella di Mino Borracino. Ma ascoltiamo proprio cosa dice il mio operatore, nonché operatore freelance, Pino Melucci. Ascoltiamolo. L'altra sera sono stato a una riunione che ha fatto il PD. Tranquillamente, come sempre, io vado a tutte le riunioni dove sono invitato, dove c'è cittadini. A un certo punto il signor Borracino ha detto «Vedo tre telecamere», tra cui la telecamera di Abbate. Io voglio precisare, io non sono la telecamera di Abbate, sono anche la telecamera di Abbate perché lavoro un po' con tutti. Tanto è vero, ho lavorato con lui, ho lavorato con altre agende. Pertanto, dove mi chiamano? E mi pagano. Io ci vado. Magari nelle sue intenzioni Mino Borracino non voleva discriminare il cameraman, come poi ha cercato di giustificarsi. Non voleva, però, come dire, di fatto, Pino Melucci, l'operatore video, si è sentito discriminato, si è sentito accerchiato. Beh, caro compagno Borracino, visto che ti definisci tale, hai toppato. Non si trattano così i lavoratori. Non bisogna metterli in difficoltà. Al di là del fatto che magari tu non volessi neanche assumere un atteggiamento del genere, ma di fatto lo hai fatto stare un po' male. Rifletti, compagno Borracino, proprio tu che ti definisci compagno e che dovresti aiutare i lavoratori, non farli sentire come hai fatto, lo ripeto, alquanto a disagio. Era giusto per chiarezza. Grazie.